Il primo è un 16 Il primo è un 16 Dovrebbe bastare per la gold? Devo essere lì, lì Non è sicuro Purtroppo abbiamo buttato un po' di punti per strada durante queste qualifiche Scusa, c'è una discussione in diretta tra i tanti e i giapponesi Abbiamo la protesta contro di lui Contro? Noi protestiamo lui, adesso vediamo un attimino come siamo punti Comunque, godiamoci sto primo intanto, due parole me le dici Sì, no, è stata una bella regata Siamo stati al comando da subito Abbiamo fatto una bella partenza sul centro della linea Ci siamo allungati, abbiamo previsto questo salto a sinistra E poi da lì abbiamo tenuto il comando Bella sensazione Bella sensazione, sì, sì, è stata proprio una bella regata Vabbè, te la godi quando sai con esattezza che sei nella godi? Sì, lì, ecco, lì di sicuro è una cosa un po' di più Ok, allora ci ripariamo domattina Grazie Ciao, voglio dire, attento, ciao